Alì la gazzamobile c'è ancora e adesso andremo verso sud verso il Pantanal siamo per affrontare la transpantaneira che ci porterà nel cuore del Pantanal non c'è nulla ma confess you've been messing where you shouldn't have been messing and now someone else is getting all your best these boots are made for walking and that's just what they'll do one of these days these boots are gonna walk all over you Gonzalo oggi ci ha invitato a questa gara di Lazo che qui è lo sport locale è una gara molto importante oggi qui ci sono i migliori cowboy di tutta la zona e lui ovviamente è venuto a gareggiare con il suo magnifico stallone noi siamo venute qui per rifare per lui l'asfalto due putti la più grande invenzione dell'uomo eeeh l'asfalto vale questa strada è davvero brutta e ci sono moltissimi camion da superare siamo praticamente obbligate a fare dei piccoli cambio di video a volanti per non perdere la posizione che abbiamo faticosamente raggiunto pronti? via vai 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 via vediamo dai lì ce l'abbiamo fatta ci stiamo lasciando trasportare dalla corrente è incredibile la quantità di pesci che ci sono qui sotto l'acqua è trasparente noi siamo due subacquee ma raramente abbiamo visto uno spettacolo così bello domani ci caleremo in una grotta e ora ci stanno insegnando a come utilizzare la corda è un test molto importante perché se non lo passiamo non possiamo fare scorsione ok sono a penzoloni su 72 metri di vuoto aiuto a 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 non volevamo lavarla ma non si vedono più gli sponsor soprattutto c'era di cupra altrimenti ci fanno ha passato da dichiarare alla stampa? no ah 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 ah